Il prossimo 29 settembre la provincia di Pesaro Urbino eleggerà il consiglio provinciale che resterà in carica per i prossimi due anni. Nell'occasione non si voterà il nuovo presidente con Giuseppe Paolini già rieletto a dicembre 2022 e che resterà in carica fino al 2025. L'elezione però è significativa per più ragioni. In primi si sono due liste in corso ed entrambe puntano a cancellare il declassamento subito dall'ente e poi sarà un nuovo test sulla bilancia fra centrosinistra e centrodestra nel territorio. Paolini, esponente di centrosinistra, potrebbe anche trovarsi un consiglio di segno opposto che non potrà comunque sfiduciarlo. Saranno 651 gli elettori chiamati al voto e a scegliere i 12 componenti dell'assise, come previsto dalla legge di riforma delle province, saranno i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale. Il voto sarà ponderato, cioè proporzionale al numero di cittadini che il sindaco e il consigliere comunale rappresentano il suo comune d'appartenenza. Da un lato c'è la lista di centrosinistra denominata la Casa dei Comuni. La compongono sindaci quali Simona Guidarelli di Pergola, Palmi Rucchielli di Vallefoglia, Omar Lavanna di Mercatino Conca e poi i vice sindaco di Gabiccio e Mercatello, Matteo Sanchioni e Gabriele Giovannini, l'assessora di Fossombrone Laura Giombini, mentre fra i consiglieri comunali ci Anna Maria Mattioli di Pesero, Alessandro Valtroni di Fratterosa, Sara Cuccherini di Fano, Alison Micheli di Petriano, Oriano Giovanelli di Urbino e Anteo Bonaccorsi di Mondolfo. La nuova provincia.pu è invece il nome della lista orientata al centrodestra che candida come sindaci Alberto Alessandri di Cagli, Maurizio Gambini di Urbino, Luca Serfilippi di Fano, Domenico Carbone di San Costanzo, Nicolo Pierini di Pian di Meleto, Enrico Rossi di Cartoceto e poi i vice sindaco di Frontino Lidia Lazzerini e di Acqualagna Alessandra Serafini, i consiglieri comunali Carla Biccari di Urbino, Daniele Malandrino di Pesero, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro e Sabina Stortiero di Terre Roveresche.